Sono diventati genitori per la seconda volta Annalisa Mecchetti e Diego Conte. La coppia ha annunciato l'arrivo di Vittoria, nata tra anni dopo la sorellina Ginevra. Annalisa e Diego si incontrarono nel 2005 a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Superata una profonda crisi, sono diventati inseparabili Diego Conte e Annalisa Mecchetti sono diventati genitori per la seconda volta. È l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ad annunciare via Instagram l'arrivo di Vittoria, la secondogenita nata tre anni dopo l'arrivo della piccola Ginevra. Benvenuta polpettina 3900 grammi di amore da dividere tra me, papà e la tua sorellina Ginevra. Ha scritto Annalisa nella didascalia del post Instagram con il quale ha annunciato la nascita della sua bambina. Si tratta della seconda figlia per la coppia. Nel 2018, l'extronista e la corteggiatrice scelta nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi accolsero la piccola Ginevra. La loro primogenita. Diego e Annalisa si sono allontanati da tempo dal piccolo schermo. Dopo una breve parentesi televisiva. Coincisa con il periodo immediatamente successivo alla loro conoscenza. Hanno scelto di vivere la loro vita lontano dai riflettori. Tra le sue amicizie si annoverano personaggi del calibro di Bar Raffaeli. Il Zabel Goulart, Affelfini Fenn e numerose altre. Stavano insieme da qualche anno quando l'extronista decise di partecipare al reality show La Talpa. Terminate le riprese, Diego fu filmato, a sua insaputa, durante un incontro bollente con la pornostar Brigitta Bulgari. Il video di quell'incontro fece il giro della rete e il tradimento spinse Annalisa a lasciarlo e a chiudersi nel silenzio. Solo lontani dalle telecamere e dal clamore mediatico, i due sono riusciti a ritrovarsi.